100.000 euro è questa la bella cifra che si è portato a casa un saccense dopo aver acquistato un grattevinci da 5 euro. Il vincitore, che naturalmente è voluto rimanere anonimo, ieri pomeriggio intorno alle 14 è stato baciato dalla fortuna presso il bartabacchi baccarella, sito in via Cappuccini. Ha comperato un grattevinci della serie denominata il miliardario. All'inizio, come si suol dire, non credeva ai propri occhi, tanto che ha chiesto la conferma della vincita al titolare dell'esercizio commerciale. Una domenica di festa dunque sia per il fortunato saccense che per il rivenditore. Si tratta di un cliente abituale, ci ha detto Salvatore Baccarella, sicuramente farà buon uso di questa somma. Ieri una bella vincita, 100.000 euro presso il vostro punto rivendita, anche per voi una bella soddisfazione. Eh sì, siamo contenti di un bel fatto che è accaduto, siamo contenti perché ha fatto questa vincita, il fortunato vincitore. Il vincitore è naturalmente top secret? Eh sì, direi di sì, il minimo. Un uomo e una donna? Un uomo sui 50 anni. Questa è la vincita più importante che si è fatta presso il vostro punto vendita? Sì, sì, c'è stato qualche altra volta, hanno vinto 10.000, ma 100.000 è la prima volta. Speriamo la prima di una lunga serie. E questo vincito di quale si tratta? Il miliardario, quello da 5 euro. Per il futuro naturalmente, sperate in altre vincite? Eh sì, siamo contenti, se i clienti vincono è normale che noi siamo contenti per loro, logico, certo. Una bella domenica di Stato? Penso che abbia fatto una bella soddisfazione, il fortunato vincitore, oltre alla bella domenica, penso che passerà altre domeniche, contento.